Ciao carissimi, questa guerra in Ucraina sta rivelando delle situazioni sempre più ambigue, sempre più anche profonde, sta rivelando le malefatte della nostra società, le problematiche che forse non sarebbero mai uscite fuori se non in una situazione così drammatica, una ferita così aperta e in questo senso quello che è recente sta accadendo nel confronto tra quella che è la mentalità di guerra e la cultura ancora pura del rock è veramente un esempio del fallimento verso il quale sta andando la nostra civiltà occidentale, la nostra società, perché uno dei pochi elementi che noi abbiamo avuto nel secolo passato, uno dei pochi modi di creare una vera e propria pacifica cultura del dissenso era l'apparizione della cultura rock, della musica rock, delle poesie, del modo di aggregarsi, di stare insieme, di svolgere anche certe attività politiche all'interno della corrente rock. Tutti noi ricordiamo grandi momenti della storia dell'umanità quando negli anni 60 i giovani di diversi paesi sotto la corrente rock o all'interno della corrente rock dissentivano a certi fenomeni della loro politica, della politica dei loro paesi, movimenti come figli di fiori che si sono posti alla guerra in Vietnam, che si sono posti alla guerra in Corea all'inizio, quando ci sono stati grandi movimenti studenteschi, tutto questo accadeva sotto la cultura del rock, c'era sempre musica rock in mezzo, ci sono in quei anni sono stati conosciuti e sono immersi le grandi leggende del rock, i grandi gruppi, i grandi musicisti ad esempio come Bob Dylan e tutto il resto, si può adesso fare tutta una una lista infinita dei grandi musicisti sia statunitensi che di altri paesi che sono immersi proprio in quei anni. Così accadeva ad esempio anche in Unione Sovietica. In Unione Sovietica nonostante varie problematiche, nonostante quella situazione un po' come dire pesante che si è creata dopo la seconda guerra mondiale, il paese è rimasto distrutto, i russi sono rimasti profondamente traumatizzati da quella che era l'invasione nazista, poi nel 1945 subito dopo la stranissima morte del presidente statunitense Roosevelt che aveva creato una politica di collaborazione con l'Unione Sovietica, non era il nemico dei sovietici, è stato ucciso probabilmente, morto in maniera molto particolare, molti dicono che era avvelenato con veleno da un po' di anni, li mettevano veleno, lo uccidevano lentamente, alcuni altri dicono che è stato ucciso con un colpo alla nuca, per questo anche attorno alla sua sepoltura ci sono ancora oggi delle discussioni, persino Kennedy in discorso con un giornalista quando parlava di questo sospetto della morte di Roosevelt Kennedy che è stato ucciso qualche anno dopo, lui al giornalista ha detto sapete io non posso discutere questa questione solamente perché vorrei rispettare l'immagine del nostro paese, perché se uscirà fuori l'immagine del paese dove vengono uccisi i presidenti noi falleremo come la democrazia. queste erano parole di Kennedy nel discorso con un giornalista esperto degli Stati Uniti che proveniva dall'Unione Sovietica e a lui Kennedy ha dato un'ampia intervista e lì c'erano queste meravigliose parole molto profetiche perché poi Kennedy è stato ammazzato e quindi in quella situazione quando Roosevelt morì o fu ucciso è arrivata la guerra fredda e nonostante la guerra fredda, nonostante le difficoltà comunque in Unione Sovietica i movimenti giovanili legati sempre alla cultura rock fiorivano, c'erano i stilaghi di San Pietroburgo, il famoso movimento beat di Mosca, c'erano i primi rockettari un po' più tardi verso la fine degli anni sessanta, c'era il movimento delle persone che ascoltavano rock and roll, c'erano i movimenti dei primi fan dei Beatles, poi Rolling Stones e così via quindi in Russia, in Unione Sovietica c'era questa cultura rock che spesso andava contro il sistema sovietico, spesso andava contro l'ideologia del partito per quale motivo? Perché rock, cari amici, da sempre stato la massima espressione culturale del dissenso non violento questo è il senso della cultura rock il rock è un modo di comunicare il proprio dissenso alla politica, alla forma della società, alle sue malefatte un dissenso contro i potenti, contro certi schemi, sistemi geopolitici però senza fare l'attività militare, terroristica o politica effettiva rock ha fatto anche la politica però rimanendo sempre all'interno delle proprie argini e ovviamente questo è un movimento puro io sono nato negli anni 80 e mi ricordo il primo arrivo di quella che in Russia si chiamava, in Unione Sovietica ancora, perdonatemi si chiamava la New Wave la Nuova Onda che erano nuovi gruppi rock che arrivavano all'epoca e che cercavano di comunicare quelli che erano le speranze, i sogni o il dissenso della nuova generazione dei giovani sovietici i gruppi come Chino con il leggendario cantante, autore di poesie, di canzoni che si chiamava Viktor Tsoi oppure Aquarium con Boris Gribinchikov che tra l'altro ultimamente ha preso le posizioni un po' stranissime comunque pazienza o Maschenavremini che anche loro sono diventati un po' strumentalizzati dal punto di vista politico oppure gruppa DDT con Yuri Shevchuk questi sono rimasti veri, puri, rocchettari ancora oggi loro sono contro la guerra, contro il sistema però non si fanno strumentalizzare dalla quinta collona non si fanno strumentalizzare dall'Occidente non si vendono a nessuno dei poteri sono rimasti sempre puri, fanno i loro concerti vivono e lavorano sempre in Russia affrontano il sistema direttamente in effetti Shevchuk è stato unico musicista e cantautore rock che ha parlato direttamente con Putin in faccia a Putin senza fare sconti ha detto quello che pensa di lui, del potere dei giochi del potere, delle guerre e così via e tra l'altro non è stato messo in galera non è stato maltrattato proprio perché Shevchuk non è pagato da nessun'agenzia straniera cioè è un vero rocchettaro ancora sovietico in effetti la sua bellissima canzone si chiama Sono nato nell'Unione Sovietica e racconta tutto il dolore ma anche tutto l'orgoglio di appartenere a quella che era quella generazione e quel mondo quindi si tratta di un cantante e una persona integra un vero musicista del rock poi ci sono altri musicisti c'è Gruppa Bravo ci sono che hanno fatto negli anni 80 sono stati un vero soffio di libertà di questo nuovo evento che ha portato un po' a ribalta i movimenti giovanili di San Pietroburgo e di Mosca movimenti del rock intendo poi ci sono gruppi metal come ad esempio storici come ad esempio Aria, Master e così via io ricordo tutto questo sono stato diverse volte nei concerti il movimento del rock da noi in Unione Sovietica era ancora molto puro la gente credeva veramente non era un show business era quasi una religione quasi una forma di aggregazione sociale quindi si riuniva insieme per ascoltare canzoni per dimostrare la propria appartenenza a questo movimento poi ogni concerto finiva sempre con le botte con la polizia perché arrivava la polizia sovietica e c'erano tafferugli poi c'erano cose anche alcune cose facevano ridere perché poliziotti dovevano sì un po' primere però ci sono stati casi ad esempio quando c'erano i cantanti che erano amati anche da poliziotti ad esempio Gruppa Chinò con Victor Zoi era amatissima da molti militari da poliziotti perché lui parlava di una forma di patriotismo non legato però a delle espressioni di destra cioè lui parlava dello spirito che ama la propria terra che ama il proprio mondo la propria società che è sempre pronto a difendere questi valori dalla corruzione da chi opprime la libertà e anche molti poliziotti si erano d'accordo con insomma con questa formula e amavano ascoltare le sue canzoni quindi io ricordo molto bene come nasceva negli anni 80 questa nuova onda io ero un grande seguace del movimento rock mi sentivo all'interno frequentavo i mercatini proibiti che si organizzavano nei luoghi anche più improbabili nella mia città si organizzavano spesso addirittura al cimitero perché era un luogo non sospetto dove si radunavano le persone che scambiavano i dischi scambiavano i primi audiocassette con registrazioni di vari gruppi scambiavano vari oggetti insomma come del maglietto oppure i disegni legati sempre alla cultura rock oppure dei libri che studenti traducevano libri che magari non erano non è che non erano erano proibiti dalla censura semplicemente non si trovavano in circolazione in Unione Sovietica non erano stampati perché molti libri ad esempio di fantascienza statunitense venivano stampati dall'Unione Sovietica poi ad esempio libri come quelli di Carlos Castaneda per qualche motivo in Unione Sovietica non si trovavano l'unico modo per leggerli era quello di cercarli nel Sam Isdat ovvero nella rete indipendente gestita dai studenti che traducevano questi libri li ristampavano sulla macchina da scrivere poi dopo li moltiplicavano su fotocapiatrici legavano insieme con dei fili e c'erano enormi malloppi che si chiamavano stracci tra l'altro si chiamava Triapka questo tipo di libro perché dopo due o tre letture quando passava da mano a mano diventava veramente uno straccio perché i fogli erano di pessima qualità e io tutto questo ho vissuto forse ho beccato l'ultima scia di questa cultura del rock prima dell'arrivo degli anni 90 quando una parte una gran parte del movimento rock sovietico si è trasformata in una cosa un po' a mio avviso negativa una cosa precipitata nel show business come è successo in gran parte nelle Stati Uniti d'America dove i movimenti grandi movimenti grandi gruppi molti cantanti del rock si sono trasformati negli oligarchi in pratica perché il sistema le ha sconfitti con i soldi questa è la triste realtà dei molti dei molti rocchettari per questo ad esempio chiacchierando con alcuni miei amici io dico che sono fortunati quei puri musicisti del rock che sono morti giovani come ad esempio Jim Morrison oppure Kurt Cobain di Nirvana perché loro non si sono non si sono fatti trascinare in questo vortice terribile di show business non hanno cominciato a farsi le operazioni di chirurgia plastica non hanno cominciato a comportarsi da oligarchi non sono stati rovinati dal show business e quindi sono rimasti puri idoli del rock sono i dei del rock e uno di questi personaggi cari amici che io ho sempre ho da sempre seguito a me sempre piaciuto e ho sempre considerato un grande filosofo del rock è Roger Waters Roger Waters che è uno dei più grandi musicisti del secolo passato e del secolo attuale uno dei fondatori di Pink Floyd un gruppo storico leggendario io amo Pink Floyd ho ascoltato tutti i loro album ho tutti i loro album sono stato diverse volte ai loro concerti e devo dire che Roger Waters continua a essere una voce fuori dal coro lui ha una sua idea che è molto fedele all'idea pura del rock rispetto al potere e in effetti nel nostro mondo che sta cambiando di nuovo prendendo una forma sempre più estremista e radicale dove hanno vinto i militaristi dove hanno vinto gli oligarchi dove hanno vinto quelli che stanno ricostruendo la società della quale ci ha messo in guardia Orwell cioè stanno trasformando l'occidente e anche il resto del mondo nella società del grande fratello dove tutti siamo spiati ormai non ci rendiamo neanche conto e sembra anche normale di essere spiati perché quando un tale Snowden ci dimostra a noi occidentali che gli Stati Uniti d'America hanno dei enormi programmi di spionaggio dove spendono miliardi trilioni di dollari ogni anno per la creazione di questi grandi programmi di spionaggio ci spiano attraverso i nostri apparecchi telematici la telefonia i computer e così via nessuno di noi rimane comunque stupito cioè quello che ha raccontato Edward Snowden la sua esperienza non ha sconvolto l'occidente sì hanno fatto un po' un po' rumore hanno trasformato tutto in una specie di solita manfrina occidentale facciamo un film scriviamo un libro facciamo delle conferenze facciamo finte che siamo indignati poi alla fine non si è cambiato niente e quindi in questo in questo mondo i poteri stanno chiaramente avendo diciamo la vittoria sulle masse noi siamo diventati delle masse amorfe e non siamo in grado di gestire questa situazione e ovviamente in questa grave gravissima situazione la cultura rock diventa un conduttore forse unico conduttore ancora puro non strumentalizzato di quello che è il vero la vera essenza del dissenso delle masse e Roger Waters continua a farlo però la cultura del potere la questa oligarchia cerca di schiacciarlo quindi di recente abbiamo io ho visto alcune alcune cose che speravo di non vedere mai in occidente ad esempio la terribile terrificante intervista che è stata fatta da uno dei più rinomati giornalisti statunitensi che scrive anche per Rolling Stone nel quale lui ha cercato di criticare Roger Waters per la sua posizione che lui ha preso contro il conflitto in Ucraina cioè dove lui in pratica Roger Waters non ha preso parte del sostegno del governo di Zelensky lui ha detto semplicemente che io sono contro la guerra la guerra in Ucraina è una cosa terribile però diciamocelo chiaro la guerra è stata provocata dalla Nato perché dopo la seconda guerra mondiale il collettivo occidente non ha fatto nient'altro che provocare l'Unione Sovietica ripetutamente ha demolito l'Unione Sovietica ha fatto di tutto per demolirla e poi alla fine ha spinto le proprie forze militari verso i confini della Russia e Roger Waters dice è chiaro in questa situazione che c'è una parte che vuole vincere sull'altra e l'altra si difende e difendendosi anche attacca anche controattacca e quindi se noi armiamo l'Ucraina e trasformiamo l'Ucraina in una in un baluardo dei cosiddetti valori occidentali e come un coltello al fianco stiamo puntando alla Russia è chiaro che la Russia cercherà di rompere questo coltello quindi c'è stata questa intervista io vi invito di approfondire dove Roger Waters tra l'altro è un grande conoscitore della storia perché lui anche nei suoi show nei suoi concerti spesso ricostruisce alcuni percorsi della storia umana gli dà una sicuramente una revisione artistica sua però lui sempre riesce a zeccare quella che è la la sensibilità del momento storico la sua essenza la sua essenza culturale lui riesce con poche immagini a volte con poche gesta far passare al pubblico una forte botta di sensazioni legati a un certo periodo storico che sta criticando che sta mettendo davanti all'attenzione del pubblico i suoi ovviamente show sono molto belli sono molto significativi per questo anche ultimamente in Germania lui è stato affrontato da questi pseudo democratici questi io li chiamo i nazisti di perbenismo oppure sapete come nazi grammar come quelli che ad esempio scrivano a me se io sbaglio la grammatica in italiano perché non sono italiano io sono russo mi capita spesso di sbagliare scrivendo e come come sapete io faccio errori anche quando parlo come potete sentire voi stessi perché lo faccio perché sono russo perché io italiano ho cominciato a parlare a 24 anni e non ho mai studiato questa lingua io ho imparato parlando con le persone ascoltando le canzoni leggendo i libri guardando i film quindi non ho fatto le università non ho fatto le scuole qua mi capita sbagliare perdonatemi non voglio offendere nessuno però ci sono i nazi grammar che si attaccano ogni virgola ogni parola dicono ma tu come fai a fare scrittore ma perché ti permetti di parlare così questo è un comportamento nazista vuol dire essere nazisti nella grammatica escludere la libertà a un'altra persona di esprimere le proprie opinioni i propri pensieri perché secondo qualcuno non ha diritto di farlo se sbaglia della grammatica la stessa cosa fanno i nazisti del perbinismo quando una persona ad esempio Roger Waters attraverso un sentimento suo attraverso la sua interpretazione artistica rimanendo nella corrente del rock cerca di spiegare la propria opinione su un passaggio storico su quello che sta succedendo adesso i vari nazi perbinisti nazi political correct assaltano questa persona e cominciano attaccarsi a dei dettagli Roger Waters in Germania ha fatto concerto uno dei suoi concerti dove lui parla di questo lui ricostruisce la mente di una persona che nella sua follia comincia a sentire se stesso di diventare un tiranno un leader di un paese trasformato in una tirania militare come ad esempio era della Germania nazista in effetti lui usa spesso l'abbigliamento che un po' ricorda i militari di Terzo Reich i gerarchi di Terzo Reich e così via niente lui è stato criticato proprio per questo suo abbigliamento perché lui ha usato fare questa scena dove lui spara contro la folla con una mitragliatrice nella sua nella follia di questo suo personaggio perché poi alla fine quando un artista è sul palco lui si trasforma in un personaggio questo è il senso anche dell'arte e senso del rock persone che sono sul palco sono diventano gli altri come un attore diventa un personaggio quindi loro entrano nel personaggio e Roger Waters ha fatto così è stato criticato massacrato dai tedeschi l'hanno denunciato perché lui diffonde il nazismo poi Roger Waters che diffonde il nazismo ma voi ma voi moledette ma dovete scomparire proprio dalla faccia della terra ma Roger Waters lui che ha fatto The Wall lui che ha che ha portato la cultura rock il dissenso contro il potere più di più degli altri adesso viene viene incolpato del nazismo è una cosa veramente atroce incredibile non la posso sentire un'altra cosa allucinante è venuto di recente a una città ucraina Lviv o Lvov o Leopoli gli ucraini la chiamano Lviv i russi la chiamano Lvov noi occidentali la chiamiamo Leopoli è una città che si trova nella parte occidentale dell'Ucraina dove vivono molte persone che seguono una cultura molto nazionalista sono nazionalisti ucraini molti di loro sono nazisti ricordiamo che da là proviene la famosa cultura del nazismo ucraino quindi Stepan Bandera tutte le organizzazioni che hanno collaborato con i nazisti famosa divisione nazista dell'ESS che si chiamava Galizien che era composta da questi nazisti provenienti in gran parte da quella regione quindi la regione occidentale che da sempre si sentiva avversa diversa dalla Russia non voleva vivere all'interno della Russia si sentivano più vicini agli austriaci poi in realtà sono stati strumentalizzati da austriaci strumentalizzati da polacchi massacrati sia da austriaci che dai polacchi poi loro hanno massacrato i polacchi insomma c'è stata sempre una storia molto turbulenta di questa regione che ha portato oggi alcune persone a una totale follia nazionalista tanto che nonostante l'articolo 116 dell'acquisizione ucraina che difende i diritti di qualsiasi cittadino ucraino di parlare diverse lingue di appartenere a diverse lingue tra quali anche il russo queste persone hanno deciso di fare una lotta contro chi parla la lingua russa ci sono stati diversi situazioni dove persone sono stati attaccati io ho condiviso alcuni video sul mio telegram persone che vengono attaccati perché parlano in russo nei negozi oppure in pubblico e di recente è successa questa cosa allucinante dove una una deputata una politica che si chiama Natalia Pipa lei è il deputato del popolo del partito che si chiama La Voce ovviamente voi sapete che in Ucraina il presidente Zelensky come grande democratico tra virgolette ha bandito tutti i partiti politici di opposizione adesso sono rimasti vicino attorno a lui solo i nazionalisti solo i nazisti solo partiti pro occidentali quelli che a lui sono comodi perché in Ucraina in questo senso non esiste niente di democratico e niente di libero è un paese totalmente totalitario peggio molto peggio della Russia perché se in Russia magari alcuni oppositori sostenuti dall'Occidente vengono trattati come nemici del popolo agenti stranieri e vengono messi in carcere in Ucraina la gente di sinistra semplicemente viene arrestata picchiata torturata massacrata uccisa scompaiano dal 2014 ad adesso sono scomparsi centinaia di persone sono stati uccisi tantissimi giornalisti a mio amico Oles Businano sparato in faccia due nazisti sotto casa sua solo perché lui era contrario all'ideologia nazista nella politica ucraina cioè lui era patriota ucraina non c'era assolutamente in lui niente di pro russo lui era per l'Ucraina indipendente però diceva apertamente sostenere nazismo è un crimine è stato ucciso per questo nell'Ucraina che oggi è rappresentata da Zelensky queste cose avvengono quindi questa signora che proviene da quella forza lì si è attaccata a un ragazzo giovane ucraino un musicista di strada che con la sua chitarra cantava le canzoni di famoso cantautore e musicista sovietico che si chiamava Viktor Tsoi lui è morto da giovane però ha fatto un grandissimo successo è l'icona dell'onda nuova del movimento rock sovietico i suoi canzoni sono ascoltati da tutti tra l'altro vi ho notato diversi video dei militari ucraini che accompagnano con alcune canzoni di Viktor Tsoi di gruppo Kino i loro video questo vuol dire che anche nell'esercito ucraino alcuni militari ascoltano questi canzoni ma non può essere altrimenti perché intera generazione la mia generazione è cresciuta su queste canzoni e per noi è anche fa parte della nostra gioventù della nostra formazione quindi questo giovane ragazzo cantava queste canzoni e questa deputata nazionalista ignorante ha cominciato ad attaccarsi a lui ecco tu devi smettere di cantare russo tu sei un criminale e così via tra l'altro video c'è sul mio canale telegram io cari amici non ho voluto tradurlo non ho voluto pubblicare qua perché chi è interessato va sul mio canale telegram si iscrive cerca quel video lo trova e vede tutto questo abominio comunque la situazione è stata abbastanza degradante perché il ragazzo quando ha sentito questa aggressione lui ha detto guarda io sto cantando intanto le canzoni di una leggenda del rock per me non ha importanza se è russo sovietico che cavolo è cioè questo è una leggenda del rock io sono rocchettaro io canto le sue canzoni cosa vuoi da me e poi lui anche l'ha mandata in quel paese utilizzando anche le parole abbastanza insomma poco poco carine lei ha chiamato polizia si vede che l'hanno maltrattato l'hanno picchiato perché dopo lui ha dovuto in lingua ucraina scusarsi ha fatto video e si è scusato in lingua ucraina bisogna dire che tra l'altro il ragazzo mentre parlava con lei le ha detto guarda che tu mentre vivi qua a Leopoli che voi non sapete che cos'è la guerra e mi stai accusando di parlare la lingua dei occupanti devi sapere che io arrivo da Odessa che sistematicamente viene bombardata dai russi e io arrivo da lì e in Odessa comunque tutti parlano russo e cioè lui le sta spiegando la realtà dei fatti che non è se uno parla russo non vuol dire che sostiene Putin non vuol dire che sostiene il nemico quindi l'idiozia di questa di queste deputate e di quelli nazisti ucraini come lei sta proprio nel fatto di spaccare l'unità dell'Ucraina in base linguistica che è una una cosa totalmente cretina soprattutto in questo momento storico che dimostra proprio il fallimento di questo pensiero e di questo di questa corrente politica comunque il ragazzo è stato maltrattato dalla polizia obbligato a scusarsi la cosa interessante è stata la reazione di alcuni alcuni rappresentanti dell'Ucraina tra i quali io vorrei citare la più interessante è stata quella di Aristovic ex consigliere di Zelensky la persona che per molti anni era un amico intimo di Zelensky con il quale tra l'altro questi due si attravestivano da donne e andavano a fare il gay pride a New York ci sono delle foto dove loro sono travestiti da donne a gay pride accompagnati da maschiacci tutti belli pompati in palestra con steroidi sono le foto allucinanti però comunque c'è questa roba c'è esiste è vera e Aristovic però io ritengo che comunque nonostante questo mio commento io ritengo che ognuno nel suo intimo può fare quello che vuole io sono per la libertà totale importante che non imponga gli altri di seguire i suoi esempi perché ognuno di noi nella propria libertà è libero di esprimersi però dove finisce la nostra libertà inizia la libertà degli altri e non devono sovrapporsi questi questi due importantissimi concetti in questo io credo consiste la libertà universale vivere come vuoi vivere tu e lasciare gli altri vivere come vogliono vivere gli altri ecco Aristovic che arriva da questa corrente politica ex consigliere del presidente amico intimo di Zelensky uno che ha fatto analista per degli anni qualcosa azzeccato altro non riesce a azzeccare comunque è una persona molto importante in Ucraina molti ucraini lo seguono il suo blog su internet è seguitissimo lui viaggia anche all'estero visita e incontra gli ucraini all'estero ad esempio di recente è stato anche in Italia ha incontrato molti cittadini ucraini che sostengono Zelensky qua in Italia hanno fatto alcuni incontri pubblici insomma è una persona che ha questo potere mediatico lui invece ha difeso questo ragazzo tra l'altro Aristovic la gran parte della propria comunicazione la fa in lingua russa lui non usa lingua ucraina lui usa lingua russa e lo fa apposta e lui dice io sono russofono parlo lingua russa e io sostengo che in Ucraina deve essere liberi i cittadini devono essere liberi a parlare la lingua russa e Aristovic ha detto in questo video il sostegno del ragazzo ha detto guarda che tu non dovevi scusarsi io capisco che ti hanno tocchiato che ti hanno torturato che ti hanno picchiato che hanno fatto pressione e ti hanno costretto di chiedere perdono però lui ha detto questa cosa che è successa a te è un crimine contro una persona contro un cittadino contro la libertà di un cittadino ucraino che difesa tra l'altro da un articolo di costituzione ucraina articolo 116 e lui ha detto contro di te questa idiota questa deputata nazista ha fatto ovviamente un crimine perché ti ha costretto di smettere di cantare una canzone perché ogni cittadino ucraino è libero di fare quel che vuole se vuole cantare una canzone per strada la deve cantare se la canta in lingua russa inglese in cinese in giapponese in indiano sono gli affari suoi lo deve cantare perché la costituzione lo permette e in sostegno di questo ragazzo Aristovici ha cantato in lingua russa una canzone di Natale una canzone da bambini dicendo ecco adesso anch'io ho cantato pubblicamente una canzone in lingua russa e voglio vedere che questa deputata o qualcun altro viene da me e mi costringe di scusarsi o mi o prova a dire che io non sono libero di fare quello che faccio quindi cari amici questa dissonanza all'interno dell'Ucraina questo caos è dovuto soprattutto alla eccessiva totalità del sistema che è stata creata creata da Zelensky dove una parte dei nazionalisti nazisti estremisti si sono sentiti talmente potenti che ormai dell'esistenza della costruzione a loro non frega niente e quindi se un ragazzo un seguace del rock canta una canzone per strada questi arrivano e lo maltrattano lo costringono di scusarsi lo spaventano adesso lui tra l'altro è stato messo in un riformatorio per i minorenni perché a quanto pare il ragazzo non ha ancora 18 anni è stato messo in un riformatorio viene maltrattato sistematicamente di recente ha fatto un video che ha fatto girare tutta la rete perché molti si chiedono cosa gli sta succedendo e lui dice guardate mi stanno continuando a maltrattare mi tengono in un riformatorio mi trattano come un prigioniero come uno che è un criminale che ha fatto un crimine perché perché ha cantato una canzone questo cari amici è l'essenza della situazione quando la cultura rock quando una persona come questo ragazzo che fa parte della cultura rock lui è un vero rockettaro uno che suonava per strada la chitarra e cantava una canzone e per questo è stato arrestato da questi brutali nazisti che l'hanno messo in un riformatorio che l'hanno trattato come se fosse un criminale solo perché lui non accetta la loro fallimentare e idiota sistema politico e quindi noi siamo di fronte di nuovo per l'ennesima volta alle situazioni quando l'occidente collettivo sta seguendo una via dell'estremismo e entra in una diretta collesione con la cultura rock quindi la cultura rock in questo momento anche se non rappresenta da tantissimi tantissimi musicisti schierati perché rock adesso come vi ho spiegato prima in gran parte è stato rovinato da show business la gran parte dei rockettari dei musicisti dei poeti che adesso sono presenti sullo spazio mediatico sono semplicemente dei furfanti che cantano le loro canzoncine pagati dalle oligarche fanno anche partecipano anche a delle varie iniziative che sono comodi ai potenti mentre comunque ci sono i cantanti seri i cantanti veri quelli che veramente fanno parte del rock ad esempio noi in Italia abbiamo dei dei giovani creati ad hoc dei gruppi veramente che hanno la stessa la stessa valenza etica di un preservativo cioè di un gondone perdonatemi che non rimarranno nella storia le loro canzoni sono vuoti attorno a loro si crea tutta una campagna mediatica ma io quando li guardo da uno che segue il rock dalla nascita perché mi è stata passata da mio zio che mi portava ai concerti quando ero ancora piccolo io posso dire che questi sono dei fenomeni da baraccone non sono dei rocchettari poi ci sono invece i musicisti gruppi che sono liberi da tutto questo sistema cantano quello che vogliono cantare e rimangono veri duri e puri sicuramente Roger Waters è uno di loro perché è anche un dinosauro proprio storico del rock e non succede niente a lui quelli che lo accusano possono mettere le sue accuse le loro accuse in un posto perché Roger Waters rimane e rimarrà sempre una roccia eterna nel movimento rock e nessuno potrà fare niente perché le sue canzoni parlano di lui la sua arte parla di lui la stessa cosa anche questo ragazzo il ragazzo è uno spirito puro del movimento rock lui è uno che non è famoso non ha nome però semplicemente cantava con la chitarra ed è stato affrontato da questo sistema e però come dire nella sua nella sua storia lui è stato fondamentale per tutti noi per capire per vedere quali situazioni si sviluppano oggi tra questa cultura del grande fratello ruiliana nella quale noi purtroppo stiamo vivendo che domina nell'occidente e la cultura rock che continua a esistere che c'è che non muore e non morirà mai io spero che è un vero e puro dissenso e che in questo momento di nuovo viene minacciata viene maltrattata viene massacrata da militaristi oligarchi politicanti e tutto il re banchieri usurai e tutto il resto della schifezza che purtroppo governa la nostra società e la gran parte del mondo con questo cari amici volevo salutarvi se avete le domande se volete condividere le vostre opinioni io vi invito di scrivere i commenti a questo video io cercherò di rispondere come faccio sempre vi invito anche di condividere i miei video con i vostri contatti con i vostri amici sui vostri social così per attirare più persone al dibattito per invitare gli altri informarsi anche dalle fonti alternative a quelle che esistono da noi nel nostro mainstream e vi ricordo che di recente è uscito il mio nuovo libro c'è qua dietro la mia schiena tra l'altro la prima copia mi è arrivata qualche ora fa mi ha portato il fattorino la prima volta l'ho tenuta in mano e vi invito a cercare il link tra la descrizione e questo video c'è il link di preordine potete preordinare questo libro e se non volete ordinarlo online dal 13 di giugno sarà disponibile nelle librerie vi invito a approfondire perché sto parlando proprio dell'odio che in questo libro sto parlando dell'odio che ha diviso l'Ucraina e ha portato questo paese a questa situazione fallimentare dove si trova adesso vi ringrazio per essere stati qui con me vi mando un forte abbraccio e ricordate che vi voglio bene che vi ringrazio